Ormai è un personaggio mediatico, la sua storia ha fatto il giro d'Italia. Da nord a sud, tutti si sono indignati di fronte al caso di mala sanità che ha visto sfortunato protagonista Luigi Ciabattoni, 60 anni, residente in contrada a San Donato di Monteprandone. Finiti in ospedale per problemi respiratori, i medici del mazzone di Ascoli gli diagnosticarono un tumore ai polmoni. L'intervento di asportazione venne effettuato all'Istituto Oncologico Europeo con l'ausilio del robot. Due mesi dopo l'operazione, la Mara scoperta, comunicata per telefono dai medici milanesi, non si trattava di un tumore al polmono sinistro, ma di un ascesso polmonare. Dicevano che era un tumore, poi dopo sono finito con un accesso polmonare, quindi il tumore, mi hanno operato per una cosa che non avevo. Loro dicono che ero un soggetto a rischio, però io non è che mi tagli una gamba per paura che mi si dovesse rovinare. Stupore, ma anche rabbia per Ciabattoni. Che decide di presentare un esposto alla procura di Ascoli. A settembre il PM Adriano Crincoli affida la perizia a un collegio di esperti dell'ospedale romano Fatebene Fratelli. Ciabattoni viene visitato da diversi medici il 24 settembre, ma la perizia è arrivata solo qualche giorno fa, il 15 febbraio. La perizia è arrivata, ora la sto facendo controllare, poi vediamo in avanti quello che succede. Sfugge alle telecamere ed è restio alle interviste Ciabattoni. Per TVP ha fatto un'eccezione, basta dire che lunedì è stato invitato da Giancarlo Magalli a Piazza Grande, ma pare aver declinato l'invito. Sono stato invitato a Piazza Grande, ma non lo so se accetto o non accetto l'invito. Ciabattoni non vuole pubblicità, ma semplicemente giustizia. Io voglio soltanto, se uno sbaglio c'è stato, che non si dovesse ripetere per altri casi. L'unica cosa che io chiedo è se è fatta giustizia, se può essere fatta, anche se io nella giustizia non ho una grande fiducia.